I lavori sono ancora in corso, ma adesso sembra esserci finalmente un fronte temporale di fine, considerati già i due rinvidi alcuni mesi rispetto alle previsioni iniziali. Si tratta della riqualificazione della pista di atletica dello Stadio Sant'Angelo dei Ricchi ad Andria, il cui termine dei lavori dopo la prima proroga di tre mesi era previsto entro il 2 ottobre. Al termine delle opere mancano però una quindicina di giorni, se non ci saranno intoppi specialmente dovuti al cattivo tempo. Gli operai sono al lavoro per completare sostanzialmente la tipica finitura di colore rosso, mentre sono complete le opere di scarificatura, nuova vitumazione, le finiture elastiche specifiche per le piste di atletica e gli ulteriori strati di impermeabilizzazione. Terminata la posa del colore rosso, come spiega in una nota l'assessore ai lavori pubblici Mario Loconte, ci sarà la tracciatura. Completate anche le altre opere previste nel bando di finanziamento da un milione di euro con fondi PNRR con il nuovo impianto di illuminazione a LED con generatore. La buona notizia, soprattutto per coloro i quali praticano l'atletica, pareggia però la delusione delle cinque società locali di calcio, costrette in queste prime fasi della stagione ad emigrare altrove. Qualche settimana fa era arrivata una nota in cui si chiedeva conto dei ritardi, considerato che la consegna sarebbe dovuta esserci già verso fine settembre. 16 nel complesso le squadre appartenenti alle cinque società che al momento stanno disputando sia gli allenamenti che le gare ufficiali altrove, oltre alle diverse squadre del territorio che non hanno stadi al momento agibile e che vedevano proprio nel Sant'Angelo dei Ricchi un'ottima opportunità, considerate le sue caratteristiche. Lo slittamento delle opere, soprattutto nel periodo estivo, a causa delle calde temperature, ma la speranza del mondo sportivo cittadino è adesso che la struttura torni al più presto utilizzabile nel suo complesso.